Come? Quando? Perché? Ma è così facile spaccarlo? Non sapevo. Dov'è porco? Porco ragazzi non mi sono spaventato. Non ho preso neanche le armi che stavano. Come cazzo mi sono spaventato? Un colpa al cuore mi è arrivato. Coglione rimane qui dal centro. Un pezzo. Sto per se... Ehm... 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 Chiesucristo che mira di merda. Ma... Ma se può... Veramente. Ma se può veramente ragazzi tutti contro me. Ho capito che... Che sono lo streamer. Ma qua non so servire ragazzi. Non c'è bisogno di sistemismo di radio. No pe... Bah vabbè. Ragazzi però non si può. Ragazzi tutti a me sparavano. Ma chi si? 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 Gino il pasticcero. Biscotto sono Gino il pasticcero. Ciao ciao ma chi si? Ciao a tutti. Una volta. Una volta. Riusciremo ad essere pari. Ho 27 persone in live. Perché? Oh vai a pieno. Come 26? Ti hanno bussato. Ti stanno pullappando. Mi stanno chiedendo. Oh my god. Ragazzi. 34. Ragazzi a sto punto iscrivetevi tutti quanti. Ragazzi iscrivetevi. Iscrivetevi. Ragazzi. Buongiorno. 15. 1. 30. Vai che più. Grazie Bondi. 34. Una fortissima persona deve venire. E' non bussato. Oh fra proprio. Non spammare. Non spammare. Niente. No. Se fai. Va bene va bene. Ma chi si? Ma chi si? Ma chi si? Francesco. Ragazzi. Siamo Gini il pasticcere. Ragazzi. Siamo Gini il pasticcere. Adesso capitila solo. Adesso capitila solo. Adesso capitila solo fra. Ciao Grizzly. Ci sta spam. Aspetta aspetta aspetta. Ci sta spammando ai mesi. Eh sì. Aspetta aspetta. Dammi un secondo. Dammi un secondo. Io sei con... Ma chi sei? Francesco sono Gini il pasticcere. Torne. Tornate, tornate. Che c... Fra... Fra. Fra... 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 Fra, è una tipa che si chiama trolliamiı youtuber gg. Ma? Una tizia che mi ha portato a me. Eh sì. Vai vedere. Ahi me si so.. Trootle Russians Jr.. Do, dove sa tutto. Aille ragazzi? Eh mì mì. Ora. Ora eh. Schiava troviamini youtuber gg. Scusa aspetta aspetta. and aspettati qua. Aspetta aspetta aspetta. Verè c кто qui? Basta. Niet parlo più. andiamoci al gioco mi imbarazzo vai no c'ha 15 g di vita c'ha 15 g di vita e niente avevo 2 kill quanto mio quanto loot ma sapete che si fa a prendere loot diventa uno c'ha 15 g di vita non ci credo vabbè io li prendo in certa parte che abbiamo davanti sono dei pro questi ho notato che mi è ucciso ma chi è che sta chi è che sta brughiere si sta brughiere uno oh attenzione lo vede lo vede stanno facendo un picnic un tagliere ninja sto osservando blu ragazzi però non si può tutti 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 ma rimane soltanto lui contro quei due secondo me la vince oh balla ti becca non ci credo ma quello è piccolare il suo bananasha ho capito ho capito non è un po' di sì sì non ci sto credendo buonio ci lancerò con me da un po' di senza paura non si muove ma switcharmi no ma adesso fa un ticcio ma adesso fa un ticcio per un pompa a 20 metri torna dov'era prima vabbè grazie a me voglio d'attorno stanno ballando ma guardali quelli davanti stavano ballando ma avete un cecchino ma qualcuno che gli faccia il giro ma guarda stanno ballando li vedi sì ma perché guardali dovevi uno quando vuole un bot cioè senza no ma co sedendo del bot a blu raffi 6-6-2 tu non sei degno di ci vuole un gironne dell'inferno per gente come te oh pushano pushano parte il push uno per gli alicottero probabilmente fa cadere l'altro si boxano ancora più sopra fallo cadere fallo cadere blu raffi fallo cadere lanciano granate ma non vanno a 6 ah sono 10-4 fu così che i pesci dell'acqua morirono mette un po' di mento posso vederti tunnelare blu raffi oh secondo me noi che lo stiamo presentati in giro poi magari ce lo becchiamo in due ed è un pro appunto mi sono rotto un po' ma arrivano 52 ma nel suo oh la c'è uno scudino che è questo l'anno fa l'amicizio la c'è uno scudino 3 milioni di euro perché stanno sparando un albero hanno atterrato un povero no 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 vedi che quelli lì sono sono i boss cioè sono gli scagnozzi no no hanno trattato una persona no sono gli scagnozzi guarda oh no aspetta oh vedi che la mira ce l'ho incredibile oh puccia lo sta curando dai i vederali ma puccialo oh 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 incredibile puccia parte il push parte non ci posso credere attento ah se sono stentato avvicinato c'è uno nel tetto l'hai visto che ha spaccato è proprio lì la cazzatura di vedere quanto sta tornando un fight boy sono 2v1 dovrebbero busciare l'oro sì blu rapi buscia senza paura c'è più di mure oh secondo me la vince non è non farti ingannare uno scagnozzo quello mi saluto crisi sono un tuo nuovo iscritto ciao brifo gamer ciao brifo gamer oh vai 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 come no ma perché non è andato dai blu rapi cosa aspetta cosa ce la puoi fare se tutti noi secondo me è sceso è lì fuori lì fuori oh 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 però vedi che la mira ce l'ho ha un good day oh si sta facendo lo spara band e niente si è forato blu rapi è ruppucato blu rapi non lo sa dire faci tipo un attacco alla samir allora gli spara ma non proprio lui blu rapi è fu così che mori blu rapi oh 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 ti sento un po' scelita 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 no no blu rapi blu rapi blu rapi blu rapi voglio capitare con blu rapi voglio capitare con blu rapi il universo player in the world amazing so refreshing so refreshing amazing amazing pass di metti password blu rapi ti prego no sempre quella è la password sempre pera sempre pera no come sempre pera ma devi capire l'importanza di blu rapi ma devi capire l'importanza di blu rapi che sei il lobby con me non parla no no sei il lobby con blu rapi sono un'immagine invito invito a tutti aspettare una noviata aspettare un mito nel panone un posto neanche vi invito a tutti ragazzi che ho scritto sono nabbo lo sono neanche skin non è vero come tu ho scritto che sei che nabbo no blu rapi è scritto al mangiato sono nabbo lo sono neanche skin ma no ma raga ma glielo regaliamo ma raga glielo regaliamo angeli di obbligo non ce l'ho l'amicizia se me la invia raffi eh no c'è nel senso no blu rapi invia l'amicizia si chiama dapnias d a e p a e non la posso inviare mi servono i pubbatti nooo appena ce l'avrò gli hai regalato io sto con blu rapi sto giocando con blu rapi posso avviare? dai blu rapi sono in 14 ciao